iniziamo il nostro studio ancora questa sera sui carismi dello spirito santo abbiamo trattato recentemente l'introduzione ai carismi e abbiamo visto una panoramica generale sui carismi sui doni anche abbiamo visto anche i doni assistenziali abbiamo visto i ministeri abbiamo toccato anche l'importante argomento del frutto dello spirito adesso ci concentriamo soltanto sui nove carismi che vengono descritti in prima corinzia capitolo 12 e uno alla volta li andremo a trattare entriamo quindi nel dettaglio dei nove carismi se avete la bibbia potete aprirla il tema corinzi 12 e così andare a rileggere il catalogo che paolo ci dà di questi nove carismi dello spirito che vogliamo suddividere è una suddivisione non biblica è una suddivisione per nostra comunità in tre categorie quindi questi nove carismi a loro volta li suddividiamo in tre categorie che mette insieme quelli che sono più omogenei la prima categoria è quella dei doni di conoscenza così la vogliamo definire cioè le capacità che ci dà lo spirito santo per comprendere per conoscere quali sono questi carismi e questi doni di conoscenza sono la parola di sapienza la parola di conoscenza e il discernimento degli spiriti sono i tre carismi che comunicano conoscenza al credente poi abbiamo un'altra serie di tre carismi che definiamo doni di potenza la capacità di operare con potenza con la potenza dello spirito e questi sono la fede fede carisma dello spirito santo vedremo che la fede ha tante sfaccettature in questo caso è un carisma la fede le potenti operazioni di miracoli e i doni di guarigioni questi sono i doni di potenza poi l'ultima serie diciamo che sono i carismi più comuni forse questi sono i doni di parola cioè le capacità di esprimersi di parlare di comunicare da parte dello spirito e sono profezia la diversità delle lingue e l'interpretazione delle lingue quindi questi sono i tre grandi i tre grandi diciamo settori in cui dividiamo i nostri nove carismi dello spirito santo tutte queste manifestazioni sono soprannaturali quanto alla loro origine e sono amministrate attraverso però degli strumenti umani ma non con mezzi umani cioè sotto forma di talenti naturali quindi non uno non è che deve avere qualche capacità naturale per essere utilizzato dal signore sappiamo deve essere in comunione con dio vero e potremmo dare altre definizioni altri ci sono altri studiosi che hanno hanno dato altre definizioni di questi eh di questi gruppi di carismi noi ci basiamo su questa che è la più comune e subito vogliamo passare ad esaminare il primo dei carismi dello spirito quello che paolo mette all'inizio e che è la parola di sapienza la parola di sapienza eh che cos'è comunica abbiamo detto è uno un dono di conoscenza e che ci comunica ci dà una conoscenza della sapienza addirittura di dio cioè lo spirito santo ci comunica una parola che procede dal cuore di dio è una sapienza divina potremmo dire non nostra appartiene allo spirito e si manifesta questa sapienza nelle esposizioni delle verità divine nella amministrazione comunitaria e nell'opera dell'edificazione cristiana questi vedremo poi questi significati in proverbi capitolo 4 versetto 7 viene enfatizzata l'importanza della saggezza della sapienza è scritto in questo bel proverbio il principio della saggezza è acquista la saggezza a costo di quanto possiedi acquista l'intelligenza e scriveva in merito il famoso insegnante di teostale donna g senza la sapienza persino la conoscenza può diventare puro fanatismo non solo ma il corretto uso di tutti gli altri doni dello spirito santo dipende largamente dal valore dato alla parola di sapienza per questo motivo troviamo la parola di sapienza al primo posto e non paolo la mette all'inizio come primo dei carismi elencati se ricordate il primo dei frutti dello spirito qual è l'amore il primo dei carismi dello spirito qual è la parola di sapienza questi sono messi all'inizio perché probabilmente sono i più importanti dobbiamo distinguere però quando parliamo di sapienza per fare un piccolo resoconto su questa importante termine quali tipi di sapienza sono indicati nella scrittura ora stiamo parlando del carisma della sapienza però la sapienza è un termine abbastanza largo non c'è solo soltanto non c'è solo il carisma della parola di sapienza ma nella scrittura troviamo e si parla di diversi tipi di sapienza il primo tipo di sapienza è chiaramente la sapienza umana la sapienza umana che è una cosa bella una cosa utile se non ci fosse la sapienza non ci sarebbero le intenzioni ci sarebbero le scoperte quindi anche noi studiamo e facciamo nostra questa sapienza umana ma la sapienza umana è utile all'esistenza ma è inadatta per i fini di dio cioè la sapienza umana è utile all'esistenza ma è inadatta ai fini di dio e ai tempi dell'apostolo paolo proprio se pensiamo la chiesa di corinto una chiesa greca una chiesa ellenista se pensiamo ai tempi di paolo in quel mondo greco in quella cultura greca ma io direi la cultura oggi è molto simile a quella del mondo greco in quel mondo greco il quale l'apostolo stava rivolgendo le sue attenzioni la sua predicazione la filosofia cioè filo sofia sono un termine composto amore per la sapienza filosofia quindi filosofi sono gli amanti del sapere la filosofia era al centro della cultura greca come lo è anche oggi in altro mondo diciamo la vita e paolo aveva a che fare se leggiamo l'epistole corinthi dove si trova appunto questa questa elenco di doni dello spirito con un mondo che metteva al centro questa questa sapienza umana e addirittura nella chiesa di corinto abbiamo già visto che c'erano alcuni personaggi nella chiesa che accusavano paolo l'apostolo di non avere una sufficiente eloquenza di non essere abbastanza filosofo per i loro gusti in seconda corinthi 10 10 l'abbiamo letto qualcuno dice infatti scrive paolo le sue lettere sono severe e forti ma la sua presenza fisica e debole sì perché i greci amavano anche lo sport no il corpo la cultura del corpo e la sua parola questo mi meraviglia sempre devo dire la verità che nella chiesa di corinto ci fossero dei cristiani che dicevano che all'apostolo paolo la sua parola è cosa da nulla guardate che cosa grave che dicevano di paolo perché paolo inseguì alla filosofia paolo era ispirato da un altro tipo di sapienza e lui nell'epistole corinthi infatti infatti scrive lungamente sulla sapienza la sapienza dell'uomo e la sapienza di dio se andiamo a leggere prima corinthi 1 capitolo 1 versetto 17 c'è un famoso brano che paolo scrive a questi greci dove parla della sapienza umana della sapienza di dio lo leggiamo brevemente infatti cristo non mi ha mandato a battezzare ma evangelizzare non con sapienza di parola perché la croce di cristo non si è resa vana poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono ma per noi che veniamo salvati è la potenza di dio e infatti sta scritto io farò perire la sapienza resaggi annienterò l'intelligenza degli intelligenti dov'è il sapiente dov'è lo scriba dov'è il contestatore di questo secolo non ha forse dio resa pazza la sapienza di questo mondo poiché il mondo non ha conosciuto dio mediante la propria sapienza è piaciuto a dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione i giudei infatti chiedono miracoli greci cercano sapienza ma noi predichiamo cristo crucifisso e per i giudei scandalo per gli stranieri pazzia ma per quelli che sono chiamati tanto giudei quanto creci predichiamo cristo potenza di dio e sapienza di dio vedete paolo quante volte diceva sapienza in questo brano l'apostolo paolo perché doveva parlare con questi greci che erano tutti infarci di questi concetti filosofici e quindi presenta a questi greci una sapienza diversa non la sapienza terrena non la sapienza dei filosofi ma la sapienza che viene da dio e che per questi filosofi era considerata invece una pazzia quindi questa è la sapienza umana abbiamo detto il signore gesù stesso sottolineò l'inutilità della sapienza umana ai fini abbiamo detto noi fini dell'esistenza ma ai fini della conoscenza delle cose di non è il sapiente che capisce le cose di dio gesù stesso dice luca 10 21 gesù mosso dello spirito santo esultò e disse ti rendo lode padre signore del cielo della terra che hai nascosto queste cose a chi ai sapienti agli intelligenti a quelli che si sentono sapienti intelligenti che si credono però sapienti le hai rivelati piccoli sì padre perché così ti è piaciuto vedete come è lontano il concetto di dio della sapienza di dio dal concetto della sapienza umana quindi c'è una sapienza umana dice la bibbia che però per quanto è utile per quanto può essere utile all'esistenza è inadatta ai fini di dio è una sapienza che non comprende non può conoscere le cose di dio poi c'è una sapienza di altro genere di cui parla una sapienza che viene descritta dall'apostolo giacomo capitolo 3 versetto 15 della sua epistola dove scritto così questa non è la saggezza che scende dall'alto ma è terrena animale e diabolica la saggezza che viene dall'alto versetto 17 è pura pacifica mite conciliante piena di misericordia di buoni frutti imparziale senza pochissia qui giacomo ci dà indicazione di una sapienza di diabolica siamo riflettiamo un attimo siamo attenti e anche questo è presente ma diffusamente il mondo una sapienza terrena definisce la definisce giacomo animale e diabolica e perché animale se leggiamo colossesi 2 8 questa sapienza animale fa pensare a una bestia feroce che ti salta addosso vero colossesi 2 8 paolo mette in guardia questi cristiani di colosse guardate guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia con i vari raggiri secondo la tradizione degli uomini elementi del mondo e non secondo cristo vedete come dice paolo paolo dice stare attenti alla filosofia stare attenti alla filosofia a questa sapienza terrena che può diventare una specie di animale una bestia feroce che vi salta addosso e vi divora io ho conosciuto cristiani che si sono dati agli studi filosofici e ne sono rimasti i prigionieri ora se un credente forte fondato nelle cose di dio può studiare qualsiasi cosa tranquillamente ma se un credente non è abbastanza forte un giovane che hanno fatto un'esperienza epidermica con il signore e va a fare certi tipi di studi questi studi potrebbero devi arco e questi tra questi studi ci sono questi studi qua essere attaccati da questa sapienza terrena dice diabolica perché diabolica diabolica perché pericolosa un certo tipo di sapienza terrena perché ha come fine la negazione del creatore a conoscere questa sapienza piena università di questa sapienza a come fine la negazione del creatore il mettere in ridicolo la bibbia vero o convincere l'uomo a peccare e di questo tipo di saggezza di sapienza terrena e diabolica la società moderna è piena e satura è presente nelle scuole elementari medie superiori università è presente a tutto campo nei mass media e purtroppo è presente anche nelle chiese disattente c'è una sapienza terrena e diabolica che alla fine come scopo ultimo quello di negare il creatore se voi pensate a tutto quello che è costruito per esempio sulla teoria dell'evoluzione che non è scienza ma questo lo dicono gli scienziati che non è scienza e viene insegnata con scienza perché l'evoluzionismo è la negazione di dio è l'anti creazionismo un famoso scienziato evoluzionista ha interrogato perché lui credesse nell'evoluzione la risposta sarà molto sincera ha detto io credo nell'evoluzione perché è impensabile credere nella creazione quindi questo è il motivo è la negazione del creatore l'evoluzionismo una teoria che viene insegnata nelle università e non è provata per niente non è provata una scientifica anzi contraddice delle leggi scientifiche fondamentali che sono invece provate a livello scientifico i nostri giovani sono alimentari di questa savienza terrena diabolica e come facciamo noi cristiani li dobbiamo vaccinare vaccinare con la sapienza la sapienza di tipo quindi la sapienza che nega il creatore è diabolica e poi ti porta ad andare lontano da dio a vivere una vita di ribellione poi alla fine quando tu neghi dio fai quello che ti pare e finisci male quindi questo è il secondo tipo di sapienza di cui parla la bibbia ma grazie a dio c'è il terzo tipo di sapienza cui parliamo stasera è la sapienza dello spirito santo prima corinzi 2 12 ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito che viene da dio per conoscere le cose che dio ci ha donate e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana ma insegnate dallo spirito adattando parole spirituali a cose spirituali e la sapienza che scelte dall'alto questa quella che non impari a scuola quella che viene dallo spirito santo comunicata e insegnata dal sommo insegnante il paracletus vero il spirito santo è l'insegnante privato lo spirito santo definito spirito di sapienza nell'antico testamento e la vera sapienza è questa che è un dono gratuito di dio che scende dal cielo nel cuore di quelli che accettano cristo che meraviglia giacomo 15 ci dice che un dono di dio la sapienza la sapienza quella che scende dall'alto quella vera quella pura giacomo 15 se qualcuno di voi manca di saggezza la chiede a dio che dona a tutti geniosamente senza rifacciali e attenzione gli sarà data non c'è un forse un ma c'è un sì del signore signore ho bisogno di saggezza sì te la do signore ho bisogno dice giacomo però non dubitare quando lo chiedi eh come un'onda del mare chiedilo con fede al signore la saggezza e lui te la dà come l'ha data a salomone come l'ha data a tanti cristiani che hanno che hanno ricevuto saggezza dall'alto quindi teoricamente e non stiamo parlando ancora del carisma un cristiano non dovrebbe mai essere uno scioppo però se riceve la salienza dello spirito santo come fa essere un scioppo e purtroppo però diciamo la verità data la mediocrità uso questa parola e l'impietà che abbiamo imparato recentemente da un fratello nel senso di mancanza della pietà della comunione con dio che è così diffusa nelle chiese nei frequentatori delle chiese anche evangeliche anche pette costali abbiamo un grande numero di credenti che non manifesta assolutamente questa saggezza spirituale e celeste e non credo di poter essere smentito purtroppo è così dipende dalla nostra comunione con di dipende dalla nostra serietà dalla nostra pietà la nostra comunione con il signore e in queste condizioni lo spirito può renderci saggi quindi parliamo adesso della parola di sapienza la parola di sapienza la parola di sapienza è il primo dei carismi abbiamo detto ed era il parlare comune di gesù cristo gesù aveva tutti i carismi dello spirito santo sempre non qualche momento sì qualche momento no lui manifestava continuamente perfettamente infatti il parlare di gesù cristo il parlare di gesù è un parlare continuo una parola di sapienza continua vero quindi se noi sentiamo gesù parlare noi abbiamo un'idea di cos'è il carisma della parola di sapienza attraverso gesù questo dono fluiva continuamente in maniera perfetta come tutti gli altri carismi dello spirito erano presenti nel signore Gesù vero perfettamente una manifestazione tale che anche gli increduli lo dovevano riconoscere che gesù parlava con sapienza in matteo 13 54 quando gesù va a nazareth parla nella sinagoga quelli che stavano là davanti dice il vangelo stupivano dicevano ma da dove viene tanta sapienza da dove gli viene tanta sapienza perché il signore era pieno della parola di sapienza e lo riconosceva e lo riconoscevano anche i farisei lo devono riconoscere quando provavano a mettere in difficoltà e il signore ha delle parole di sapienza che risarmano vero ricordiamo per esempio il famoso tributo a cesare che volevano mettere una difficoltà e gesù risponde con quella frase questa è una parola di sapienza prendete cesare quello che di cesare a dio quello che di dio questa è una parola di sapienza dello spirito vero li ha disarmati ed è rimasto come un insegnamento per tutti i secoli la sapienza la parola di sapienza era presente e questa sapienza era presente anche negli apostoli discepoli negli atti degli apostoli lo vediamo potremmo dire in sintesi considerando la vita del signore sua parola questa parola di sapienza continuamente fluiva da lui che la parola di sapienza il carisma è come un raggio della sapienza di dio che si manifesta attraverso un credente gesù è il sole lui i raggi erano suoi noi possiamo manifestare un raggio della sapienza di dio carisma parola di sapienza quando lo spirito santo ci usa per l'utile comune quindi andiamo avanti sul carisma della parola di sapienza come abbiamo un forte chiarito l'esercizio dei carismi deve essere pubblico destinato all'utile comune il carisma della parola di sapienza si deve manifestare in modo particolare nella comunità della comune adunanza e per comune adunanza intendiamo la chiesa locale radunata in tutto o in parte ma mai in riunioni private senza la presenza e l'approvazione degli anziani della chiesa purtroppo è successo che a volte a volte è successo che riunioni private magari il pastore neanche lo sa si manifestano carismi profezie parole ma quello non è biblico perché non è biblico perché i carismi dello spio santo hanno una caratteristica hanno una caratteristica e l'esercizio dei carismi e dobbiamo tenere sempre presente questa caratteristica la chiesa responsabili stessi devono giudicare l'autenticità di quel carisma è scritto poi lo vedremo la chiesa deve giudicare e soprattutto i responsabili della chiesa devono giudicare se quello è un carisma o è una bella espressione di lode o una preghiera o qualcos'altro quindi è importante considerare ricordarci sempre questo per questo motivo sottolineo non è contemplato mai un esercizio privato dei carismi e dei doni dello spirito ma questo è un tema molto delicato che tratteremo diffusamente nelle prossime i prossimi studi senza ombra di dubbio e cerchiamo di concludere con questa parola di sapienza questo tono della parola di sapienza è fortemente legato alla predicazione perché paolo quando parla della sua predicazione parla della sapienza di dio ovviamente abbiamo letto anche il rivista dei polizi si riferisce alla sua predicazione come a una predicazione portata avanti dalla sapienza che viene dal dall'alto la sapienza di dio ovvero la predicazione apostolica era sempre accompagnata da questo dono che rendeva il messaggio di quegli uomini incisivo e convincente perché perché ispirato dallo spirito cosa succedeva quando predicavano gli apostoli che la gente veniva toccata lo spirito santo operava i coi i cuori venivano con punti a pentecoste pietro predica e già già paroli di sapienza predica con carismi per pietro in quel giorno e la gente che dice udite queste cose furono con punti nel cuore dissero a pietro fratelli che dobbiamo fare perché è arrivata una parola dal cielo non è stato pietro lì è stato proprio spirito santo a guidare che se non vuole vero ed allora un predicatore ispirato ecco è importante questo è importante per predicare non basta prepararsi un appunto per predicare dobbiamo cercare la guida dello spirito santo è un predicatore ispirato comunque che cerca la guida dello spirito impara a riconoscere il momento in cui deve ad esempio lasciar perdere i suoi appunti e dire qualcosa di diverso che sente in quel momento sul momento come un bisogno improvviso e forte io come come pastore posso testimoniarlo l'ho provato tante volte e in quel momento ti rendi conto che c'è qualcosa che devi dire da parte del signore all'assemblea e di solito quando questo risponde a verità e non ti sei sbagliato succede qualche cosa e qui c'è la parola che viene dallo spirito santo ed è collegata soprattutto alla predicazione soprattutto ma non è riservata soltanto al predicatore perché come sappiamo il mio santo può distribuire i carismi come lui vuole per cui una parola di sapienza potrebbe arrivare anche alla chiesa per mezzo non del predicatore ma di un semplice credente per esempio una testimonianza ispirata ora è vero che testimonianze ispirate non è che ce ne sentono tantissime di solito raccontiamo le nostre storie che ci è successo eccetera la testimonianza è un po un racconto di quello che ci ha fatto per noi però a volte ci siamo resi conto che ci sono state delle testimonianze dove il signore ha usato fratelli sorelle semplici magari anche che non sono neanche resi conto per darci un messaggio e spesso a me è successo come predicatore che alcune testimonianze mi hanno confermato quello che volevo dire all'assemblea quindi sono stati guidati quei fratelli sono stati ispirati in quel momento a incoraggiare il messaggio quindi il signore può distribuire queste parole di sapienza nel in mezzo alla comunità vero cosa c'è da dire su questo dono i doni di conoscenza abbiamo detto parola di sapienza parola di conoscenza di scendimento degli spiriti non hanno un esordio così eclatante facilmente riconoscibile che ne so come la profezia parlare lingua l'interprezione delle lingue lì tutti capiscono c'è un carisma vero ma si si manifestano in un contesto più pagato a volte colloquiale durante un discorso c'è una parola di sapienza parola di conoscenza quando c'è una predicazione la testimonianza ma l'effetto è quello descritto che abbiamo visto prima in atti succede qualche cosa quando arriva la parola del cielo succede qualche cosa ora comunemente noi non usiamo questi termini tecnici parola di parola di sapienza diciamo il predicatore è stato guidato dallo spirito santo o abbiamo sentito un'unzione su di te perché hai detto una cosa noi usiamo altre terminologie ma alla fine si tratta di questo la manifestazione di questo carisma però rimane a mio parere fortemente legata alla predicazione della parola come paolo ci dice nell'epistola e corinzi la parola di sapienza ha un posto importante e con questo terminiamo ha un porto interno importante anche nel governo nel consiglio nel governo della chiesa per chi deve dirigere una comunità quanto è importante la salienza quanto è importante che il signore ci dia delle parole di sezzezza tante volte non si comprendono le cose abbiamo un esempio di questo in atti degli apostoli capitolo 6 dove c'è il collegio degli anziani tutti gli apostoli riuniti che devono prendere una decisione importante in atti 6 1 leggiamo in quei giorni moltiplicandosi il numero dei discepoli sorse un murmurio da parte degli ellenisti contro gli ebrei gli ebrei di origine greca gli ellenisti perché le loro vedo erano trascurate nell'assistenza politica ora vediamo che anche nella chiesa degli atti dei reposti della venti costa possiamo dire i guai i problemi e chiacchiere iniziano subito perché fanno sono attaccate proprio al cuore dell'uomo ed allora cosa succede in quella chiesa degli atti che una sorella degli ellenisti eh non riceve la minestra e uno si scopre che chi stava passava si scordano di dar piatto la minestra o dapprima alla sorella di gerusalemme ebrea di nascita ebrea di tre musici di origine e allora la sorella degli ellenisti dice ah hai visto trattano meglio loro che noi e lo dice a quell'altra e comincia la chiacca il mormorio sempre così nella chiesa da stupidaggini poi diventano mormori poi diventano mardicenze e poi diventano problemi e arrivano alle orecchie anche a quel tempo del degli apostoli del di chi doveva di ricevere quella chiesa e che facciamo questi si vedono se il santo pregano anche se non c'è detto e poi c'è una parola di sapienza non è conveniente che noi lasciamo la parola di dio per servire le mezze pertanto fratelli cercate di trovare tra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza pieni di spirito e di sapienza e quali affideremo questo incarico quanto a noi continueremo a dedicarci alla preghiera al mistero della parola loro risolvono tutto con questa dichiarazione che è guidata dal signore tant'è vero che la chiesa è contenta la chiesa è contenta di questa dichiarazione loro eleggono i diaconi i diaconi si mettono a servire le venze e tutti sono contenti e hanno risolto il problema con una dichiarazione saggia guidata dal signore questa decisione viene in seguito appunto a una a questa saggezza che risolverà il problema che stava dividendo gli animi dei discepoli questo mormorio cesserà la chiesa e finisco non ha bisogno di uomini anche al governo della chiesa che hanno successo negli affari o sono bravi le loro professioni hanno quattro lauree la chiesa ha sempre e sempre di più bisogno di uomini di donne piene di spirito santo e di sapienza come questi diaconi e come lo erano cialzato via posto quindi per oggi ci fermiamo qui e ci vediamo la prossima volta per parlare del prossimo carisma dello spirito santo il signore ci benedì grazie a tutti grazie a tutti